Abbiamo già stanziato le risorse e dato un incarico a un architetto che non solo si occupa di parte architetturale ma anche proprio di rissanamento di tutti quelli che sono i beni monumentali. Per cui, essendo un bene monumentale prezioso, ci sono più processi importanti da fare, come i primi rilievi, le schede tecniche. Successivamente verrà fatto un rilievo a scanner proprio per verificare lo stato attuale della fontana sia dagli elementi lapidei che sono appunto posti nella parte superiore ma anche tutta quella che è la parte idraulica nel sottofondo che è quella che negli anni si è più compromessa per una mancanza di manutenzione. Per cui il vero lavoro sarà fare un progetto, affidarlo poi per la realizzazione sottoponendola chiaramente alla sovrintendenza perché è l'organo deputato al controllo e successivamente diciamo che verrà realizzata la riqualificazione in tutte le sue parti. Quindi quanto tempo ci vorrà più o meno? All'incirca si pensi a un anno perché comunque sono più processi, sono processi lunghi naturalmente è un bene prezioso della città e come tale essendo stato restaurato nel 2003 ci sentiamo di dire che non solo appunto verrà fatto un processo di riqualificazione ma anche un vero e proprio piano di manutenzione, cosa che sino ad ora non è mai stato fatto.